Va bene che siamo nel mondo dei direttanti, ma quante volte al mondo si è mai visto un giocatore che nella stessa partita fa gol e poi para un calcio di rigore? Questi eventi si sono visti oggi al Pavone di Pineto, nel 2-2 tra i padroni di casa ed il Vasto Marina. L'eroe è Carlo Schofolan, che prima firma il 2-2, poi rimanda al mittente, al quarto e ultimo minuto di recupero, il tentativo dagli 11 metri, peraltro pessimo, di Soria. Sinceramente fa ridere anche a me, vi dico la verità, è molto singolare come cosa, me la sono sentita e è andata così. Ma cosa hai provato quando sei andato in porta e cosa hai pensato di fare poi in quei momenti? Io ho cercato di pensare dove potesse tirare la palla l'attaccante e poi ho pregato, ho chiuso gli occhi e mi sono tuffato. La vittoria, cioè il pareggio, forse per me è più una vittoria perché non mi era mai capitata una cosa del genere, la dedico comunque alla squadra, al presidente. Alla società, è niente, ai tifosi. I punti in paglio tra Pineto e Vasto Marina sono importanti per la rincorsa al quinto posto. Tra i padroni di casa gli assenti sono Malocu, Trento e Natarelli. Tra i vastessi Soria guida l'attacco, a sinistra c'è l'ispiratissimo Galasso. Inizio soporifero, anche se al terzo Soria va giù in area, ma l'esordiente, in eccellenza Friotto di Lanciano, fa proseguire. La gara si accende al diciassettesimo quando Miani raccoglie la spizzata di Di Felice e centra la traversa. Sembra un momento proficuo per i padroni di casa, ma a passare è il Vasto Marina, anche con un pizzico di fortuna che assiste Galasso. Suo, al ventiquattresimo, l'assist per il gol facile facile di Aziz, alla seconda marcatura stagionale. Vantaggio che dura appena tre minuti. Il traversone basso di Colancecco fa fuori l'intera retroguardia vastese. Di Rapina, Di Felice, inzacca l'undicesimo gol in campionato. Trentatresimo e nuovo vantaggio ospite, e stavolta è la difesa di casa a farla grossa. Non si intendono i due Di Furia, il difensore anticipa il proprio portiere, ma libera al tiro Galasso, preciso nella conclusione. Tre partite e tre gol per l'ex Francavillese. Pochi minuti dopo, Vasto Marina avvicina al Tris con la sventola di avvantaggiato di poco fuori. Ripresa, ed il Vasto sembra voler chiudere la partita, Soria tira fuori un'azione delle sue, Emanuele Di Furia alza in angolo. Un minuto dopo, il 94 di casa, Peppoloni, in uno scontro di gioco, riporta la frattura di tre dita del piede destro. Lascerà il campo a Cadrio e sarà portato in ambulanza all'ospedale di Atri, dove arriverà la diagnosi. Auguri di pronta guarigione. Ancora l'ottimo avvantaggiato scambia con Aziz e fa tremare i tifosi di casa. Il Pineto non ci sta, si scuote col passare dei minuti e protesta per un presunto mani di martelli nell'area bianco-rossa, ma anche qui si continua a giocare. Entra anche Fayeta, importante l'innesto dell'esterno, che al ventisesimo incorna al lato. Al trentatresimo arriva il 2-2, ma sul tiro cross di Colancecco, Schofolan, che va a segno, per Ruggeri di Pescara e al di là della linea difensiva, tutto vanificato. Il Vasto spreca troppi palloni in uscita, Fayeta è in palla, prima offre un buon pallone a Di Felice, esterno della rete. Poi al quarantunesimo prende palla, converge ed offre a Schofolan un pallone filtrante che il colore d'ex Nepezano deve spingere in rete sull'uscita di La Barba. 2-2. Finita qui? No, perché con rabbia il Vasto si rifà sotto, Luongo impegna da fuori Di Furia. Sputore al quarantatresimo viene contratto in pena area, quindi al quarantasiesimo il colpo di scena, il solito Soria smarca Sputore. Di Furia respinge il suo tiro e sullo slancio finisce sull'attaccante. Per Friotto di Lanciano ci sono gli estremi del calcio di rigore e dell'espulsione. Le successive proteste dei padroni di casa sarebbero destinate a tenere banco nel dopogara se non avvenisse il miracolo. A sostituzioni esaurite Schofolan indossa i guanti e disinnesca il rigore di Soria. Alla fine tutti ad abbracciarlo, mentre in casa Vastesse si fa buon viso a cattivo gioco per due punti buttati via. Penso che del calcio ne ho visto talmente tanti che fa parte del gioco. È stato bravo il ragazzo in porta, però voglio dire che i rigori li può sbagliare solo chi li batte. Quindi Soria non ha fatto nient'altro che successo a migliaia di persone. Sicuramente la partita non va vista alla luce del rigore, anche se chiaramente al 94' rimane l'amarezza. Ma la partita va raccontata in ben altra maniera, dove l'avete vista tutti. E credo tutto sommato che sia stata una gran bella partita dove il Pineto ha giocato una buona gara. Ma a noi credo tutto sommato, non credo di dire niente di eccezionale che meritavamo di vincere sicuramente. Credo che ci sono stati 90 minuti ben giocati e forse alcune decisioni ci hanno penalizzato un po' più del dovuto. Comunque per come sono andati poi gli episodi proprio nella fase finale, diciamo che è un punto che ci fa sorridere.